La signora ha avuto un infarto, lei è morta. Io vado a dare un'altra occhiata in casa sua. No, io ti proibisco, ti proibisco di andarci, io ti proibisco, finirà che non ti proibisco più niente. Lui ha usato il nome di Tom, si impone un riscontro. Un riscontro? Ma che ti catapoliti alla morgo? Mi sembri di un umore strano. No, 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 forse sono un po' spruso. Di minerale? No, no, cosa dici, ho mangiato un babà. Misterioso omicidio a Manhattan, in anteprima assoluta, a novembre, su Tele P1. Quando la bionda Michelle fece la sua prima apparizione in Scarface, molti spettatori rimasero senza fiato. Questo mese, l'affascinante attrice americana è la protagonista di una rassegna dei più significativi film della sua eclettica carriera, tra i quali, in anteprima assoluta, L'età dell'innocenza, di Martin Scorsese, con Daniel Day-Lewis e Winona Ryder. Michelle Pfeiffer, questo mese, ogni domenica sera, su Tele P1. Chi trova un amico riceve un regalo. Presenta a Tele P1 un nuovo amico entro il 31 ottobre e potrai subito scegliere in quale delle maggiori città italiane trascorrere un super weekend per due persone presso gli alberghi della nuova catena Forte Agip Hotel e Forte Crest. Partecipare è semplice, basta essere in regola con i pagamenti del canone e compilare insieme a un nuovo amico il coupon presente nella guida ai programmi Tele P1. Cosa aspetti? Un amico ti dà sempre qualcosa in più. Liam Neeson, Ben Kingsley, in un film destinato a rimanere nella memoria. Schindler's List, in esclusiva a novembre su Tele P1. Staset Edục Staset Edục Staset Ed Battlefield Staset Edục Staset Ed fundo Perdonami, ma non è una boss. In un mondo che è imprevedibile, prendetevi una certezza, Volvo 850. Finish. È forza concentrata in pastiglia. Finish. Elimina lo sporco più difficile. Finish. Il pulito insuperabile, anche a limone. Da 0 a 100 km in pochi secondi. Ma su un Audi A4 non c'è bisogno di correre. Perché le prestazioni, la tecnologia, la sicurezza, il design. È meglio goderseli, con calma. Audi A4. La velocità senza la fretta. Alle 19 una commedia brillante diretta da Dave Launer. Un elisir misterioso complica la vita a due studiosi. Pozione d'amore. A seguire Nick Nolte e Giulia Roberts in una classica commedia giallorosa sul mondo del giornalismo. Inviati molto speciali. Alle 23 per il ciclo dedicato a Martin Scorsese è disponibile anche in versione sottotitolata a quei bravi ragazzi con Robert De Niro, Ray Diota e Joe Pesci che ottenne l'Oscar come attore non protagonista. Nel complicato mondo della tecnologia, Philips ha creato qualcosa di veramente semplice. Kombi, televisore e videoregistratore in un unico apparecchio. Philips Kombi, la tv con il video in più. Philips, miglioriamo il tuo mondo. Telepiù consiglia la visione di questo film ai maggiori di 14 anni e vi ricorda che è possibile seguirlo anche in lingua originale.